Salve a tutti carissimi amici e bentornati in compagnia di Guerzo86 Ben Mitici è un video un po' particolare perché è un video breve, un video corto ma un video molto molto importante, infatti Miticissimi sono entrato a far parte insieme a Claudio proprietario del sito che vedete in sovraimpressione technologymania.net e diciamo sono diventato socio insieme a lui quindi come possiamo vedere qui dalle immagini, d'ora in avanti troverete i miei articoli inerenti al blog nostro, al canale di Guerzo86 su Youtube nonché potete trovare chiaramente articoli come potete vedere qui in sovraimpressione articoli nuovi, magari non tantissimi articoli però ecco i più importanti attraverso technologymania.net li troverete senz'altro un sito che mi è piaciuto molto, ha uno stile semplice, ben curato e niente, spero Mitici che da oggi in poi, dopo aver visto questo video ci seguirete in tantissimi attraverso technologymania un luogo in cui ritrovarsi, scambiarsi idee e chiaramente commentare tutti i vari articoli che io, Claudio e altri dello staff andremo ad inserire all'interno del sito vi dico subito che insieme a Claudio stiamo preparando tantissimi nuovi articoli ma anche tantissimi nuovi contest all'interno appunto del sito quindi niente, vi invito a seguirci, a entrare dentro technologymania.net sito molto molto semplice che parla un po' di tutto come possiamo vedere abbiamo argomenti su android, su apple, bada, blackberry, computer, news eccetera eccetera quindi Mitici, niente, che dire spero per voi che questa scelta che ho fatto un po' anche della mia vita qui su internet vi piaccia ho scelto questo sito per la sua semplicità ma soprattutto per le persone che ci sono all'interno persone semplici che hanno voglia di lavorare e che non si stressano più di tanto la vita se per una volta un articolo ecco arriva nel sito un'ora dopo rispetto agli altri quindi magari un pochino più di pepe diciamo all'interno degli articoli diciamo quello che ognuno pensa e niente, a me mi è piaciuto tantissimo appunto vi ho detto una grafica semplice ma ben curata come potete vedere qui dalle immagini quindi niente raga, io vi aspetto su technologymania.net l'indirizzo è molto molto semplice eccolo qua, come potete vedere qui in sovraimpressione e niente, quindi piano piano incominciate a venire su questo sito dove potete trovare i miei articoli quelli di Claudio un fan del Viola Blog quindi un vostro amico quindi niente, non vi resta altro mitici che andare a seguire il sito in mia compagnia e quella di tutto lo staff vi aspettiamo numerosi un saluto a tutti i mitici e ci sentiamo nei prossimi video ciao a tutti i miticissimi